Karanovic, 3-1 contro Ravenna, peccato per il terzo set, avete giocato altrimenti una partita di buonissimo livello. Sì, siamo calati un pochettino, in una fase cambio palla, però nonostante tutto abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo portato a casa tre punti importanti e abbiamo adesso una settimana per lavorare bene in vista delle prossime partite che saranno fondamentali. Molto bene, soprattutto nei primi due set, avete spinto anche molto bene al servizio. Sì, 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 ultimamente stiamo riuscendo bene in questo fondamentale, però eravamo molto calmi, sereni, abbiamo affrontato una partita che sapevamo non essere facile, l'abbiamo fatto nel miglior modo possibile e abbiamo portato a casa tre punti pesanti. Una lube che sta crescendo, quarta vittoria consecutiva, considerando anche la Champions. Sì, sì, per fortuna adesso siamo di nuovo tutti operativi, anche se ovviamente Simone e Giri dopo un po' di tempo fuori devono recuperare qualcosina, però è normale, insomma. Abbiamo adesso una settimana per allenarci che non accadeva da un bel po' di tempo, quindi sicuramente ci gioverà. Prima partita Civitanova in campionato, 4.400 spettatori. Insomma, come ho già detto prima, se si continua così sarà veramente uno spettacolo giocare qua. Grazie.